un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale oggi con questo video vi mostrerò come ci si può registrare sulla piattaforma di gioco scommettendo ed ottenere un bonus mensile del 10 per cento sul casino il sito è abbastanza valido ci propone tantissime tipologie di giocate e ci permette di giocare tutti i tipi di sistemi il sistema in singola il sistema integrale sistema con gli errori e anche la possibilità di abbinare questi due sistemi integrali con l'errore con un semplice clic ma la cosa più comoda è che per ogni partita possiamo andare a vedere le statistiche semplicemente cliccando sull'icona riportata qua sulla destra rappresentata da queste tre barrette infatti cliccando qua sopra noi abbiamo la possibilità di osservare tutte le statistiche di questa partita del testa a testa fra le due fra le due squadre la classifica qui sono riportati gli incontri precedenti le ultime partite insomma c'è tutto quello che ci può servire per analizzare tutte le partite che sono proposte nel palinsesto se volete registrarvi basta andare sul sito www.scommettendo.it e cliccare su registrati a questo punto dovete compilare tutti i vostri dati personali ma la cosa più importante che alla voce codice presentatore dovete scrivere in maiuscolo ando barletta questo vi permetterà di ricevere un bonus mensile del 10 per cento sul perso al casino compilate naturalmente tutti i dati e completate la registrazione se invece siete già registrati e volete usufruire di questo bonus dovete inviare una mail a info chiocciolina scommettendo punto it nell'oggetto scrivere cambio sottorete indicare la vostra user e di voler essere spostati nella sottorete di ando barletta come ultima cosa per completare l'operazione dovete allegare la foto del vostro documento fronte e retro bene fatto questo non rimane altro che inviare la vostra mail e l'operazione è conclusa naturalmente vi consiglio di contattarmi in modo tale che possiamo verificare che l'operazione sia stata completata con successo bene spero che questo video vi sia piaciuto potete iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto lasciare un mi piace condividerlo con gli amici un saluto a tutti ci vediamo al prossimo video ciao